Professore Saguerra, le tasse non sono di sicuro un argomento popolare, la metafora del piove governo ladro è frintroppo diffusa per non capire al volo a cosa alludiamo, però c'è stata una grande rivoluzione nella storia del sistema fiscale, il prelievo diretto e proporzionale sul reddito degli individui anziché la tassazione indiretta sui consumi ha costituito la svolta dei sistemi politici, ma com'è oggi questa situazione dal punto di vista costituzionale, come è sistemato oggi questo principio generale? È vero quello che lei dice, l'introduzione di un'imposta personale progressiva sul reddito è stato sicuramente un cambiamento epocale, soprattutto perché aveva anche l'ambizione di colpire, di considerare l'insieme di tutti i redditi del contribuente e quindi anche di personalizzare l'imposta tenendo conto delle condizioni familiari del soggetto, delle sue condizioni di salute, eccetera, eccetera. Si è rivelato un progetto in buona parte anche ambizioso perché ci sono dei redditi che sono difficili da accertare, la situazione del contesto economico si è modificato, ma resta sicuramente una pietra miliare del nostro ordinamento e è importantissimo perché è uno degli strumenti attraverso cui si realizzano i principi che sono contenuti nella nostra Costituzione e che, tenderei a sottolineare, sono ancora importantissimi. Il principio della capacità contributiva che ci invita ad essere solidali nel pagamento delle imposte per finanziare i servizi che vanno a tutti e il principio di progressività che tiene presente che non tutti possono contribuire nello stesso modo. Le tasse non servono a finanziare solo le esigenze generali dello Stato, la difesa, l'ordine pubblico, le cose che sappiamo tutti, ma sempre più a finanziare dei servizi. Però c'è una specie di spirale inevitabile fra sempre più servizi o anche a volte cose che sono servizi presunti e una imposizione fiscale che di conseguenza è sempre più pesante ma non viene accettata dall'opinione pubblica. Come si può trovare un bilanciamento in questa situazione? Io credo che non siamo ancora nella situazione in cui i servizi offerti siano troppi, ci sono servizi importantissimi che mancano nel nostro sistema, pensiamo alla non autosufficienza, agli asili nido che sono presenti in alcune zone del territorio italiano ma assenti drammaticamente per esempio in tutto il sud Italia. Io credo che ci sia più che altro un problema di educazione civica, nel senso che il cittadino vede se stesso come un contribuente e piange per le tasse e vede se stesso come utente e chiede più servizi. Mettere insieme due cose è sicuramente molto importante. La consapevolezza di questo legame è messa in crisi dal fatto che i nostri politici in campagna elettorale continuano a denigrare l'uso del fisco considerandolo un'invasione nella privacy dell'individuo, mettere le mani nelle tasche, lavorare per sé invece che per lo Stato. Sono tutti modi falsati di raccontare il sistema fiscale che invece è un grande strumento di democrazia per i motivi che dicevamo prima. La riforma in senso federale o più correttamente in senso regionalista dello Stato qualche problema lo pone nella gestione del sistema fiscale, almeno del sistema fiscale così come siamo abituati a concepirlo. Può spiegare un po' che cosa cambierà in questa situazione? Ci sono problemi molto rilevanti che purtroppo non sono assolutamente considerati in modo opportuno nel dibattito attuale. Il cittadino si troverà di fronte a un fisco diverso articolato su regioni, province, comuni e Stato ovviamente. E quindi è molto importante che questo sistema sia coordinato nei suoi principi sia per contenere l'onere complessivo ma anche per mantenere i principi di equità che devono caratterizzare questo sistema. Se noi pensiamo per esempio a un IRPEF che venga in parte attribuito a diversi livelli di governo in cui ciascuno ci mette del suo, modificando la base, modificando le liquide, modificando i sistemi di agevolazione e di incentivazioni che esistono, arriviamo a un sistema arlecchino assolutamente incomprensibile che rischia di essere non solo ingiusto ma anche inefficace. L'altro problema è che nel dibattito sul federalismo fiscale sta nascendo l'idea della territorialità dell'imposta, cioè l'idea che i territori hanno diritto a mantenere a se stessi il gettito dei loro propri tributi. Questo può entrare in contrasto con il principio che richiamavamo all'inizio di questa breve conversazione, cioè l'idea che tutti i cittadini sono chiamati a contribuire in relazione alla loro capacità fiscale perché venga offerta a tutti i cittadini, siano del sud, siano del nord, siano del centro, l'accesso ai diritti di cittadinanza che sono un elemento fondamentale della nostra Costituzione, cioè l'accesso alla sanità, all'istruzione, all'assistenza deve essere garantito indipendentemente dal fatto di risiedere in un territorio con più o meno ricchezza e quindi con più o meno imposte.